Ciao ragazzi mi chiamo Nicola Andreoni e quante volte quando siamo nella spiaggia proprio accanto a noi c'è la ragazza più figa dell'universo? Lo so, succede tutte le sante volte e quante volte proprio in questa situazione ci stiamo domandati che cosa mai potrei dirvi a questa bella ragazza? Ok, in questo video questo dubbio resta, ma in questo video ci concentreremo non su che cosa dire, ma su quando dire. Provo a riassumere quello che Tony mi ha suggerito sulla faccenda, come conoscere nuove ragazze e non sembrare artificioso o arrogante. Tony ragazzi non è l'ultimo arrivato perché è stato anche un bagnino nei suoi lavori precedenti, quindi è una ponte piuttosto attendibile sul come approcciarsi con le ragazze in spiaggia. Quelli che stavo per seguire in questo video sono semplicemente dei suggerimenti e dei consigli, niente di più, niente di meno, ma soprattutto niente di troppo serio. Giusto un preliminare, io Niki non credo che ci sia un atteggiamento completamente giusto e uno completamente sbagliato perché ogni persona, ogni ragazza, ogni spiaggia, ogni situazione ha la sua propria energia, ogni circostanza è unica e irripetibile. E con questi spiritosi, deliziosi, preziosi suggerimenti di Tony probabilmente appariremmo al primo approccio con la ragazza, meno fastidiosi e si spera anche più attraenti. Ok, iniziamo. Il primo e probabilmente unico suggerimento di Tony per presentarsi in spiaggia ad una nuova ragazza è saper cogliere l'attimo migliore, il giusto timing, essere in grado di presentarsi nel momento dove lei abbassa la guardia e se siamo fortunati sarà più predisposta e anche desiderosa di fare la nostra conoscenza. L'insegnamento di Tony è riassumibile con qualche divieto fin troppo generale, ma magari illuminante, tipo mai. Mai interromperla mentre è totalmente rilassata e intenta ad abbronzarsi, perché magari è semi addormentata o indormiveglia, appunto. Perché magari vuole proprio starsene sola durante l'abbronzatura. Perché Dio mio ragazzi, sento cielo, è come per noi chitarristi quando ci stiamo allenando con la chitarra. Quel momento per noi è sacrosanto, proprio come per le ragazze è sacrosanto prendere il sole. Quindi anche se squillasse il telefono e ci fosse dall'altra parte della cornetta Margaret Robbie, probabilmente nemmeno risponderemmo. Perché per inciso ragazzi, non è Margaret Robbie ad essere la ragazza sbagliata, ma è quel tipo di momento che non è il momento più adatto per conoscere nuove persone. Poi altro suggerimento di Tony, mai, mai interromperla se con espressione seriosa e coinvolta in una chiacchierata contidenziale con una sua amica. Perché magari la ragazza che vorresti conoscere adesso è interessata a parlare con i suoi amici. Un'altra similitudine ragazzi prima di continuare. È un po' come quando stiamo giocando il calcetto con il nostro gruppo di amici e siamo così concentrati sulla palla, focalizzati sull'azione, il testosterone a mille. E in quel mentre arrivasse anche Miley Cyrus in topless, probabilmente nessuno se ne accorgerebbe. E nessuno caccherebbe Miley Cyrus, ma no perché Miley Cyrus è brutta, ma perché il momento sbagliato siamo così coinvolti nella partita di calcetto che tutto il resto passa in secondo piano. Proprio come quando le ragazze sono coinvolte nel loro gossip tra amiche. È bene lasciarli chiacchierare prima di fare la loro conoscenza. Quindi quando? Quando Niki è il momento giusto? Quando Niki è il momento migliore? Felice che tu me l'abbia domandato. Perché giustamente una ragazza media quando è al mare trascorre il 90% del tempo a prendere il sole, l'8% a parlare con l'amica. E Dio benedica l'acqua fresca del mare perché se siamo fortunati quando quella ragazza sta per prendere fuoco e andare in fiamme, esplodere sotto il radio del sole, sarà intenzionata a farsi un bagno. Anche solo per la pesciatina. Perché grazie al cielo tutti noi abbiamo bisogno di fare una pesciatina ogni tanto. Anche le ragazze più fighe. Quindi quando quella ragazza che tanto ti garba trascorre quel rapidissimo 1% del suo tempo in acqua per rinfrescarsi o fare la pipì, nessuno lo saprà mai, escluso lei, ma lei ti mentirà se è lì per la pipì, ok, chiusa parentesi. Ecco, questo ragazzi potrebbe essere il nostro miglior momento per rompere il ghiaccio e provare a fare la sua conoscenza. Forse lei è lì per la pipì, ma chi se ne frega, resta uno dei migliori momenti per noi per presentarsi. Regola K3, 472. Se fosse in topless, guarda il suo naso e la sua fronte. Fronte e naso, fronte e naso, naso e fronte. Mai, mai le sue tete, mai. Altrimenti mandi tutto all'aria e non sono le sue gambe. Conclusioni. Riassumendo con un po' di matematica, e se la matematica non è un'opinione, abbiamo detto che la ragazza media statisticamente passa il suo 90% del tempo al sole, 8% a parlare, 1% in acqua, quindi resta un altro 1%, che probabilmente è il miglior momento per conoscerla, ovvero quando arriva e quando va via dalla spiaggia. Anche se il momento top del top per approcciarsi con una nuova ragazza, suggerito da Tony, è a fine giornata. Quando la ragazza sta abbandonando la spiaggia, perché magari è soddisfatta, magari è un po' stanca, e sentirsi corteggiata gli dà una botta di autostima, quindi è più avvicinabile e abbordabile. Naturalmente, amici, se la ragazza che ha catturato la nostra attenzione ci sta dando dei feedback, tipo eye contact o sorrisi particolarmente maliziosi, a questo punto ogni momento diventa quello buono. Tutto quello che abbiamo detto dentro a questo video va a farsi frecciare, ogni momento è quello giusto. Ok amici, che dire, grazie di cuore come sempre, siete stati fantastici ad ascoltarmi fino a qui, è stato bello per me come sempre cercare di riassumere qualcosa che ho sperimentato nelle mie esperienze, in questo caso ho riassunto la mia vacanza dell'estate 2021, grazie di cuore, a presto. Grazie a tutti.